good morning ragazzi benvenuti in questa nuova video lezione del prof betti oggi vi parlerò di uno degli argomenti più cari e cioè della mia città firenze e infatti oggi parleremo della firenze medievale e della nascita dello sviluppo diciamo dell'affermazione della famiglia dei medici come sempre preparo powerpoint e cominciamo con la lezione per parlare di firenze medievale iniziamo parlando delle arti che furono una delle associazioni di cittadini più importanti in assoluto infatti vi ho scritto che tra le associazioni che furono diverse che si svilupparono nella firenze medievale una delle più importanti con un ruolo più fondamentale rispetto alle altre fu proprio quella delle arti ma che cos'erano queste arti erano delle libere associazioni di cittadini basate sui mestieri infatti nel periodo medievale il termine arte era utilizzato in generale al posto della parola lavoro quindi possiamo considerarla proprio come dei lavoratori ognuna di queste arti aveva un proprio capitano e un proprio stemma a firenze in particolare le arti si dividevano in arti maggiori e arti minori le arti maggiori erano sette ed erano quelle più importanti e più ricche ovviamente sotto trovate una lista di quelli che sono appunto gli appartenenti alle arti maggiori e cioè i giudici i mercanti di panni i cambiatori oggi li chiameremmo un po i banchieri diciamo i lavoratori della lana medici e speziali setaioli e pellicciai come vedete un ruolo molto importante ce l'hanno coloro che producono tessuti per quanto riguarda invece le arti minori erano 14 chiaramente erano più povere e meno importanti qui ho scritto alcuni di queste arti come per esempio i beccai che erano i macellai e al solai fabbri gli albergatori i chiavaioli che erano una sorta di fabbri che costruivano soprattutto chiavi e piccoli oggetti di ferro poi fornai e vinattieri ma firenze non era divisa soltanto in base al alle arti che erano una sorta di sindacati potremmo definirli anche così ma c'era anche una divisione interna politica quella cioè tra guelfi e ghibellini questa divisione si sviluppò in particolare verso il 1220 quando federico secondo cercò di unificare il nord e il sud italia e i vari comuni e le persone in italia iniziarono a dividersi alcuni si schierarono insieme al papa e furono chiamati guelfi altri invece sostenevano l'imperatore federico secondo e colui e questi erano i ghibelli firenze sarà sempre diciamo di parte guelfa a parte qualche piccola parentesi che adesso vedremo ma in generale si schiererà sempre dalla parte del papa mentre altre città anche molto vicine a firenze proprio perché si odiavano molto queste città decisero di schierarsi con l'imperatore ad esempio in toscana troviamo siena e pisa un anno importante per questi scontri fu il 1260 che fu l'anno della battaglia di monta aperti in questa battaglia siena pisa e pistoia tre città ghibelline si allearono e sconfissero firenze in uno dei momenti più bui nella storia di firenze medievale questa sconfitta fu una sconfitta molto cosciente e ne parlerà tra l'altro molto a lungo anche dante nella divina commedia nel 1260 i guelfi furono cacciati da firenze e per circa sei anni firenze fu comandata dai ghibellini poi la battaglia di benevento che vide scontrarsi carlo d'angio contro il figlio di federico secondo manfredi la sconfitta dei ghibellini quindi la vittoria di carlo d'angio portò un po alla fine del movimento ghibellino in particolare a firenze tra l'altro qualche anno dopo nel 1269 firenze vendicherà la sconfitta di monta aperti sconfiggendo i ghibellini in una battaglia che si svolse a colle valdenza sembra tutto pacifico ma a firenze diciamo cittadini si divertivano a litigare su tutto e infatti nonostante ormai la schiacciante forza dei guelfi i guelfi si divisero in due partiti diremmo così e cioè i guelfi neri che erano guidati dalla famiglia dei donati e i guelfi bianchi che invece stavano dalla parte della famiglia dei cerchi erano delle vere e proprie guerre quindi di potere tra famiglie a proposito di potere come si sviluppava il potere nella firenze medievale il governo era in mano a otto priori questi priori erano scelti tra sei arti maggiori e due dalle arti minori come erano scelti questi priori a sorteggio erano sorteggiati tutti tra tutti coloro che partecipavano alle arti maggiori ne venivano sorteggiati sei l'unica cosa che dovevano avere essere maggiori di 30 anni quindi avere insomma una certa età e a loro volta questi otto priori che leggono un gonfalone che oggi era sarebbe una sorta di presidente della repubblica cioè una figura che non aveva molti poteri ma aveva una grande forza soprattutto da un punto di vista simbolico diciamo oltre a i priori c'erano dei consiglieri questi consiglieri erano il consiglio dei 12 buonuomini e quello dei 16 gonfalonieri dopodiché c'era anche una specie di polizia segreta la potremmo definire così che era guidata dagli otto di guardia e poi i sei di mercanzia che invece controllavano soprattutto le attività economiche quindi come vedete moltissimi cittadini partecipavano al potere della città uno degli eventi più importanti per quanto riguarda firenze in quest'epoca è il tumulto dei cionpi cioè la ribellione di questi cionpi che cosa succede nel 1378 si ribellano questi cionpi chi sono sono dei lavoratori salariati dell'industria della lana oggi li chiameremo operai probabilmente e erano quindi persone piuttosto povere che non avevano una propria arte che gli rappresentava e quindi stanchi del potere dei più ricchi decisero di ribellarsi chiedendo di partecipare anche loro al governo della città dopo una rivolta violenta furono create tre nuove arti minori tra cui proprio l'arte dei cionpi per andare incontro a queste richieste e queste tre nuove arti minori entrarono proprio nel governo della città ma i più ricchi non erano contenti di questo e infatti che cosa fecero i mercanti boicottarono i cionpi in pratica decisero di chiudere tutte le botteghe in cui loro lavoravano in questo modo loro non avevano un salario e furono ridotti in pratica alla fame i cionpi cercarono di reagire a questo boicottaggio ma non ci riuscirono infatti a un certo punto i questi mercanti tesero loro un tranello fecero un'assemblea in piazza signoria dove invitarono i cionpi che furono però uccisi a tradimento da questi mercanti questo evento portò a una stretta da parte delle arti più ricche che decisero addirittura di sopprimere le arti minori e quindi eliminarle proprio dalla vita politica di firenze in tutto ciò un ruolo sicuramente importante iniziano a rivestirlo una famiglia particolare la famiglia dei medici vedete questo è lo stemma dei medici queste sei palle di cui una con lo stemma di firenze e queste sei palle sembra che fossero la leggenda dice che fossero sei pillole proprio perché i medici originariamente erano probabilmente proprio dei dottori e quindi queste erano le pillole che loro potevano prescrivere diciamo ai propri pazienti è un po' una leggenda questa dello stemma ma comunque io ve l'ho raccontato anche solo per ricordarlo meglio questa famiglia era originaria del mugello proprio come me e si trasferirono a firenze verso la fine del 200 questa è una cosa che abbiamo già visto in altri video cioè in quest'epoca le famiglie più ricche iniziano ad andare a vivere in città e questo è un po' l'albero genealogico dei medici partendo dal primo che si distinse in città cioè giovanni di bicci giovanni di bicci fu un grande mecenate e fu il primo della famiglia dei medici che iniziò ad imporsi e ad imporre un certo potere infatti come vedete oltre a essere un mecenate quindi un protettore di artisti nel 400 venne eletto anche diverse volte priore di che arte dell'arte del cambio quindi in pratica quella potremmo definire da dei banchieri giovanni di bicci fu importante anche perché fu il padre di cosimo il vecchio che è considerato un po' l'iniziatore della famiglia dei medici e del loro potere dopodiché il figlio piero il gottoso da cui nascerà infine lorenzo il magnifico ma ovviamente di questi personaggi parleremo in un altro video come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe Grazie 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 Grazie